una buona serata a tutti voi da fabrizio fullone dj equinox dj competition la trasmissione di solo musica house in onda tutti i giovedì notte da mezzanotte a luna in vostra compagnia con solamente uno stacco pubblicitario questa sera abbiamo un ospite si chiama roberto milanesi lo salutiamo ciao a tutti ciao ciao roberto e questo è un tuo diciamo è una tua produzione oppure si questo è il disco è una compilation si chiama natti fellas argo ed è in uscita sia in digitale che in cd box dall 11 di questo mese cioè già uscito e raccoglie un po il meglio della produzione underground dell'etichetta jambalai records che è un'etichetta relativamente nuova io ho il merito di averla fondata coinvolgendo una serie di artisti da tutto il mondo che che ho conosciuto tramite un sito che si chiama soundcloud.com ok allora la lasciamo ascoltare ai nostri ascoltatori poi dopo seguirà dai una breve intervista ok questa traccia comunque particolare è la numero 12 quindi l'ultima che chiude chiude il disco ed è farbrauch di elettronic beach sascha von dalvignolda ciao 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 per tutti gli amanti di questo tipo di musica Grazie.